Questo piccolo oggetto si chiama Arlo Pro, viene prodotto da Netgear ed è pensato per aiutarvi nella vita di tutti i giorni. Come? Ve lo spiego tra poco qui su TechPrincess. Avete presente tutte quelle volte in cui lasciate a casa da soli i vostri figli o ancora tutte quelle occasioni in cui siete soliti preoccuparvi per un genitore anziano o più banalmente del nuovo cucciolo appena arrivato nella vostra casa. Ecco, in tutte queste occasioni potete chiedere aiuto ad Arlo Pro. Si tratta di una telecamera di sorveglianza pensata per essere facilmente accessibile in ogni momento, così potrete controllare se i bambini stanno facendo i compiti, se la nonna sta bene e se il cane è tranquillo. Di Arlo Pro dovete sapere due cose, è facilissima da installare e semplicissima da controllare. Sì, avete capito bene, scordatevi il dramma di capire dove e come posizionarla in casa. Arlo Pro è infatti venduta con un supporto che da un lato vi permette di fissare un paio di viti per assicurarla al muro e dall'altro è magnetico. Così tutto ciò che dovete fare è avvicinare Arlo Pro al supporto e lasciare che sia il magnete a fare il resto. Questa videocamera poi è totalmente senza fili e resistente all'acqua, quindi una volta sistemato il supporto, sia che sia dentro casa o all'esterno, sarete pronti a godervi i frutti del vostro lavoro. Ma come potete utilizzarla? Arlo Pro può essere usata in due modi differenti, come una videocamera classica o come un vero e proprio sistema di sicurezza. L'applicazione dedicata infatti vi consente di collegare il prodotto alla rete wifi e di accedere allo streaming video in qualsiasi momento. Non importa se siete quindi in ufficio, sull'autobus, al mare o in vacanza in montagna, in ogni momento potrete aprire l'app sullo smartphone e controllare la vostra casa. Grazie poi alla nuova Base Station, che è il cuore pulsante di questo sistema, potete trasformare Arlo Pro in un allarme anti-intrusione. Questa base infatti contiene sia la tecnologia che consente di archiviare online o in locale i filmati registrati, sia una sirena da 100 decibel. In vostra assenza quindi, qualora Arlo Pro dovesse rilevare un'intrusione, partirà un allarme che segnalerà ai vostri vicini l'accaduto, mentre a voi arriverà una notifica sul telefono. Le qualità di Arlo Pro però non finiscono qui. La videocamera è infatti dotata di audio bidirezionale, così potrete parlare con le persone presenti in casa, della visione notturna, di un angolo di visione di 130 gradi e di una batteria ricaricabile a lunga durata. In pratica non gli manca proprio nulla. Ora scusatemi ma corro a controllare cosa sta succedendo in casa mia con l'app di Arlo. Voi nel frattempo non dimenticatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!